Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Ovviamente prima di Titanfall che ovviamente esce domani Vorrei farvi riprendere un pochettino Cioè vorrei farvi rivedere Piante contro zombie Garden Warfare Che siccome me l'avete chiesto io ve lo pubblico molto volentieri Perché mi è piaciuto veramente Dado come gioco E mi fa piacere che ovviamente mi fa piacere pubblicarvi un'altra partita Perché è veramente divertente e è un modo per cambiare un pochettino dai soliti Call of Duty, Battlefield, Forza o Dead Rising Quindi ragazzi partiamo subito Non vi faccio vedere però Taif perché Taif invece è un gioco che è una storia Magari qualcuno di voi se lo vuole giocare Non mi fa piacere magari spoilerarvi qualche pezzo Sarebbe più carino fare un let's play Ma sapete che come let's play alla fine uno si vuole concentrare anche sulla storia Boh vedete voi ditemi voi se volete anche qualche video su Taif Ve lo faccio volentieri Comunque si ragazzi partiamo su molti giocatori Ora andiamo su eliminazione a squadra che è la modalità più divertente e più veloce E cerchiamo subito una partita Eccoci ragazzi C'è già gente che sta urlando Cristo Dio mi stai già facendo ingazzare Vediamo se fa zitti la gente Continua a parlare sto coglione Questo ha problemi Così si attiviamogli la voce Ah no questo ragazzo ha problemi ragazzi Non per dire ma Vabbè zio ha i problemi Lo sappiamo già che ha i problemi Quindi ti zitti scomplocca Altrimenti Cioè diventi matta Non lo so Ta calla Tu rincoglionito Cosa sono? Pesci Pesci Pixel Guarda c'è una tenta lì Eccola lì Cosa cosa? Coglione ti ho ucciso vero? Due Prende sul vaso E l'ha fatta Il cazzo Grande abbiamo ucciso un altro Vai così Vabbè non muore E Cristo non muore Oh che cazzo? Ho sentito il rumore di questa carnivora Ma non è vero che questa carnivora Che cos'è quella cosa? Ah Ok lo scienziato Ah ragazzi Mi dispiace di solito Che prima ho fatto una parita Veramente bellina Molto bellina Mi ha scasso veramente tanto Purtroppo Non mi ha risposto L'HDPVR Questa cosa è veramente Mi ha fatto veramente incazzare Vabbè la gente Non muore Che cazzo BAM E rumore Va bene Va bene Oh Tre di fila ragazzi Tre di fila Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Di una pianta Comunque gli zopi sono più fuori Secondo me A mio parere Però siamo alla pari ora Dai 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 aiuto No Eh qui cazzo Mi hanno spaccato il culo Sono veramente Messi bene E Penso proprio che mi uccideranno molto presto Dai 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 zio Dammi la mano Dammi la mano Non mi stai sparando Vaffanculo Vabbè Ho capito che questa volta muoio Allora Ok Alla fine La cosa migliore sarebbe conquistare quella cazzo di nava Perché se conquistate la nava ovviamente Potete attaccare al meglio Allora Sì Andiamo qui Tutti gli zombie sono sopra il tetto Ma alla fine la postazione migliore è questa Controlliamo Cibana Andiamo qui Qui non c'è nessuno Oh ma che cazzo sei La pianta di 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 Cristo Non lo so Puttana Eva cazzo La piantina di Gesù Mamma Stronzi Va bene Va bene Va bene zio Va bene così Vai così Grandissimo Sta vibrando il mio Va bene Zio dammi una mano Dammi una mano Va bene Nessuno che mi dà una mano Grazie Grazie Ve adoro Ve adoro Ragazzi Eh? Ah c'è una C'era un girasolelli Però lasciamola tranquilla Ci stanno anche battendo Ci stanno anche battendo Questa è la cosa che è Vabbè BAM Niente 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 Ma va a cagare Grande No Scappa Scappa Sì Mamma mia Oh che cazzo Oh che cazzo Tranquilli Fatemi recuperare Non so Non so Non so Com'è no Boom Stronzo Vattene a fanculo Vabbè 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 Bello Grande Zio Come si Ah ok Quindi si spegna che controllo Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Siamo i più forti ragazzi Siamo i più forti I zombie regnano No Abbiamo perso invece Vaffanculo Ah cagare Se mi avessi M'ho vinto C'è stato vittoria Vaffanculo Pensavo di aver vinto Invece Solo toccino Vabbè Siamo divertiti Alla fine Quindi ragazzi Spero che la puntata vi sia piaciuta Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente L'avete apprezzato Usciamo dalla partita Che altrimenti Qui continuo Ovviamente ragazzi Domani uscirà Titan Sono veramente felice Come vi ho già detto Spero che Molti di voi Se lo prendano Per Xbox One Così magari Possiamo giocare insieme E noi ci vediamo Alla prossima Quindi Bella raga